Il Silmarillion, iniziato nel 1917, la cui elaborazione è stata proseguita da Tolkien fino alla morte, rappresenta il tronco da cui si sono sviluppate tutte le sue successive opere narrative. Si tratta di cinque racconti che contengono l'intero repertorio mitico di Tolkien, ovvero la cantrice, da cui è derivata direttamente o indirettamente la filiazione delle sue favole, dall'Hobbit a Il Signore degli Anelli. Semplicemente uno dei libri fantasy epici e mitologici più belli che abbia mai letto, la lettura del Silmarillion è fondamentale per chi si è incuriosito del pluriverso tolkieniano, colma lacune e scioglie curiosità di chi abbia già letto i più popolari libri di Tolkien.